venerdì 26 marzo 2021 ultimo della settimana risponde ad una domanda molto semplice quanto tempo ci mettete a percorrere 5 chilometri su rower perché un di oggi è proprio questo un time trial 5000 metri for time è tutto per questa settimana ci vediamo lunedì buon divertimento e buon weekend